Il segretario della Lega Matteo Salvini è tornato ieri sera su uno dei temi cari al suo elettorato. Quello dei migranti. Come si è cambiata strategia sull'emergenza sanitaria e il piano dei vaccini. Con la Lega al governo occorrerà cambiare la strategia anche su porti aperti e porti spalancati. Il leader della Lega Matteo Salvini non si accontenta della testa di Arcuri. Sostituito ieri dal generale Figliuolo. Ora rilancia anche sul tema immigrazione e sbarchi. E al governo Draghi chiede un drastico cambio di passo. Come si è cambiata strategia sull'emergenza sanitaria e il piano dei vaccini. Con la Lega al governo occorrerà cambiare la strategia anche su porti aperti e porti spalancati. È quanto ha detto a Quarta Repubblica in onda su Rete 4. Il segretario del Carroccio ha aggiunto. Il primo gennaio 2019 quando ero al Ministero dell'Interno c'erano stati 260 sbarchi di immigrati. Ora nello stesso periodo ci sono quasi 5000 sbarchi e 10 poliziotti positivi al Covid nel centro di Lampedusa. È chiaro che bisogna inarginare l'arrivo di migranti irregolari. Questa settimana Matteo Salvini è atteso a Catania per un nuova udienza del processo in cui è imputato per sequestro di persona. Per aver impedito per giorni lo sbarco dei migranti. Venerdì sarò a Catania e il 19 marzo sarò a Palermo. Grazie. 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 Grazie.